Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come Ore tese al grande fratello Vip. Una concorrente l'ha ammesso davanti a tutti, l'hanno dovuta prendere in disparte per capire la situazione. All'interno della casa più spiata d'Italia non avvengono solo amori, amicizie e litigate. Il dover vivere chiusi là dentro per mesi e mesi porta all'interno del programma anche tutta una serie di problematiche esterne che, però, entrano a far parte della quotidianità anche del GF Vip. Proprio nelle ultime ore, una concorrente ha ammesso di aver avuto un momento di difficoltà a livello di salute. L'hanno quindi convocata all'interno del confessionale per dei controlli più approfonditi, ecco cos'è successo. Grande fratello, Patrizia Rossetti non sta bene. Nel corso di una chiacchierata, Patrizia Rossetti ha raccontato di un suo recente momento di fatica. Non si sentiva affatto bene e la redazione l'ha chiamata in confessionale per fare dei controlli approfonditi, che hanno rivelato una situazione di pressione bassa. A questo punto, quindi, il medico le ha dato delle bustine da prendere ogni giorno, anche se ancora nel momento in cui parla non si sente molto bene. Patrizia Rossetti si è quindi andata a sdraiare e, con sua sorpresa, è arrivato di fianco a lei Luca Salatino. Il giovane chef le ha quindi chiesto come stesse e si è seduto di fianco a lei, dicendo che sarebbe stato lì in qualsiasi momento, nel caso in cui non si sentisse bene. La scena l'ha commossa. Questo comportamento di Luca ha stupito in positivo tutti gli inquilini della casa e tutto il pubblico, che sicuramente ne terrà conto quando dovrà votare il preferito o l'eliminato della settimana. Non è facile, infatti, trovare all'interno della casa qualcuno che riesca a estraniarsi dai meccanismi del gioco e che quindi riesca a far emergere la propria umanità al di là di ogni tattica e Luca Salatino lo sta facendo molto bene. Giovedì 20 ottobre andrà quindi in onda un'altra puntata del Grande Fratello Vip e il pubblico sarà chiamato a decidere su questioni importanti, come la permanenza o meno di Antonino Spinalbese nella casa, oggi al televoto e al centro di un momento non facile. Per scoprire se l'ex di Belen potrà parlare di nuovo con Ginevra Lamborghini e se Luca Salatino verrà premiato per questa attenzione nei confronti di Patrizia Rossetti non resta che fare una cosa, seguire la diretta. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra, ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.